Per vista Alessandr Yachnadieff, si prepari Radio Radicale con l'Anfranco Palazzoli. Yachnadieff, grazie Presidente Verna, grazie Presidente Difonso. Presidente Conte, oggi dopo sette mesi di governo, dopo la manovra in corso, dopo lo scontro e l'incontro con Bruxelles, qual è il colore che prevale nel suo esecutivo, nel suo governo e ritiene probabile nei prossimi mesi che si aggiungono, si sostituiscano dei colori nell'esecutivo? E infine mi permetta, qual è il suo colore preferito? Questa è una domanda insidiosa. Guardi, questa esperienza di governo funziona e continuerà a funzionare perché si regge su un'amalgama perfettamente riuscita del giallo e del verde.